Un saluto dal Tg della Mobilità. Il 10 aprile Roma ospita la Formula E, evento sportivo internazionale con la terza gara del campionato 2020-2021 della settima stagione. Il tracciato del circuito automobilistico è stato disegnato sulle strade dell'Eur nei giorni precedenti e successivi alla gara. Il quartiere sarà interessato da un programma di lavori notturni per l'allestimento e lo smontaggio delle strutture del circuito. Tali lavori comporteranno alcune modifiche ai percorsi delle linee di bus, alla circolazione e alla sosta. Calendario e informazioni sono pubblicate su romamobilita.it e atac.roma.it. A causa delle disposizioni governative in merito all'emergenza Covid-19, l'evento sportivo si terrà a porte chiuse e quindi in assenza di pubblico. È tutto appuntamento alla prossima edizione. Grazie.